Sì, sì, sì. Sì, io sono molto credente. Credo che ora i nostri padri siano lassù. Anch'io sono molto credente. Al paese facevi il chirichetto. Dai, anch'io facevo la chirichetta. Cioè, no, non facevo la chirichetta, però davo una mano in parrocchia. Che bello, siamo uguali. Tutte e due orfani, tutti e due credenti e tutti e due chirichetti. Cioè, no, tu no, però dai una mano in parrocchia. Faccio volontariato. Che bello. E come ti chiami? Sonia. Ah, io no. Peccato. Leone. Raccontami un po' di tuo padre. Mio padre era una persona squisita. Aiutava le persone, il prossimo...